E così si parte con il primo possesso per la Virtus Asciano con Dogani e Schillaci Calderini a cercare lungo, subito Boccini, Boccini a redirgore, Simone Boccini, attenzione Boccini intero Grande parata di Arraiz, gli fa buona guardia Una buon break di Schillaci, attenzione Schillaci Per Ippolito, Ippolito ne salta uno, Ippolito in area di rigore, serve sfada Cross in mezzo a cercare Boccini sul secondo pallo Al minuto 32, 40 secondi sul cronometro Attenzione l'altro Pulcinelli, ancora Piteo al cross in mezzo Attenzione pallone arriva sul Pulcinelli Parte Piteo e fa un velo e poi la traversa da parte di Fabiani I risultati si sono sbloccati a Cetona, 1-0 contro la Tretico e il Castagnaio Ancora 1-1 tra Radicofani e Bocconvento e 1-0 per la Poliziana in casa del Terontola Intanto qui, la franta, attenzione, prova il tiro, prova il gol del 1-0 La squadra ottide, il numero 8 Fabiani, Piteo Vieto Sasciano leggermente sbilanciato in avanti 4 contro 3, Piteo ora porta la palla Piteo segue il numero 9 Lombardi, all'arca perda Pulcinelli, palla fuori Il gruppo dell'Unione Poliziana in casa del Terontola E qua Fariti che gioca la palla per Marcocci A calciare lungo e a cercare spada Terutolo in gioco dai difensori della fratta Palla in mezzo sul gioco Siamo con la Palla, Panteo, Radeo e si muore Bocconi 1-1 Virtus a cielo Grande azione qui della Virtus Con un laci lungo millimetrico da parte di Marcocci Messo giù in maniera elegante da spada Tenuto in gioco dal limite lo dì a Pulcinelli e Andrea Si accentra Alessandro Spade con il zirisolo Mette un pallone millimetrico per Bocconi Che a due passi dalla linea di porta non può sbagliare a questo giro 1 a 1 sul cronometro che segna 68 Spada, in mezzo, prendi i dati sul secondo palo Trenino in aria Cantella lontana in qualche modo però arriva Puccinelli al tiro Bindi, miracolo di nuovo Bindi Potente e piazzato, tantissimo Bindi Ancora il caccio d'angolo, attenzione al gironi di testa Bindi di nuovo Bindi, grande parata nel giro di 30 secondi Buccini continua il pressimo Attenzione Bindi, è rata all'uscita Palla che rimane nelle piedi di Fabiani Prova a mettere la palla in mezzo Ma poi arriva Dugani che allarga per De Santis Affrontato da Puccinelli che allontana fuori E finisce qua, 1 a 1 tra Virtus Asciano e Prata Santa Caterina Bindi, grande parata da Puccinelli che allontana fuori Hoor